SAKURAI! Non credo che l'intero tuono sarà una meteora, solo la nuvola e forse la parte iniziale dell'hitbox del tuono appena esce dalla nuvola o qualcosa del genere. E in questa immagine si può vedere una sorta di combo in quattro stadi che Sakurai dice che è evitabile ma soddisfacente quando va a segno. E da quel che vedo anche dall'immagine sembra avere portata verticale inferiore rispetto ai giochi precedenti. Mi ricordo che in 64 era illimitata penso, in Melee e Brawl era più o meno simile e in questo l'hanno ridotta ulteriormente ma hanno aggiunto questo effetto secondario. Carina come cosa, ma un update a un personaggio, a un veterano, fra i veterani perché Pikachu c'era fin dall'inizio. Fa piacere. Non pendo che ci sia altro da dire cosa ne pensate voi, siete fan di questo cambiamento di Pikachu? Non saprei. Vi ringrazio d'attenzione e a domani. L'anno di Smash purtroppo è sospeso a tempo indeterminato anche se dovrebbe essere per solo 2-3 giorni in teoria. Per qualche motivo il mio account di Twitch è stato mosso su JustinTV e non ho l'idea del perché. Ho contattato lo staff di Twitch e mi hanno detto che entro 3 giorni la cosa dovrebbe essere risolta. Quindi se tutto va bene tra 3 giorni dovrebbe ricominciare l'anno di Smash e dovrei poter finirmi lì e iniziare Brawler. Grazie per l'attenzione e bye bye. Grazie per l'attenzione e bye. Grazie per l'attenzione e bye.